Eccoci su Sicilia 24 per una nuova edizione di Spazio e Notizia. Parliamo di cronaca partendo dal Trapanese, per la precisione da Erice, dove un 23enne è stato arrestato dai carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti. Il servizio. I carabinieri della stazione di Erice hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un Trapanese classe 99. I militari dell'arma, con la collaborazione di personale della Polizia Municipale di Erice, hanno documentato alcuni incontri nell'ocualità Pizzolungo, dove l'arrestato risiede, che hanno fatto pensare che il 23enne avesse intrapreso una fiorente attività a dispaccio. Sottoposto a perquisizione, è stato infatti sorpreso a detenere circa 5 grammi di hashish, 75 grammi di marijuana, coltelli intrisi di sostanza stupefacente materiale per il confezionamento e la somma contante di 760 euro, presumibilmente provento dell'attività di spaccio. Dopo aver sequestrato lo stupefacente, l'uomo è stato arrestato dai carabinieri e a seguito dell'udienza di convalida, sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di Erice, con il divieto di allontanarsi da casa durante le ore notturne. Parliamo adesso di un grave fatto avvenuto a Catania. Quattro giovani, infatti, sono stati aggrediti e picchiati da una decina di persone armate e incappucciate. Il tutto è avvenuto nel cortile dell'Istituto Fontana Rossa di Catania, nella quartiere di Librino. Il raid è avvenuto lo scorso sabato davanti alla casa del custode. Secondo quanto ricostruito, i rapinatori, dopo aver costretto i malcapitati a consegnare loro i pochi soldi che avevano in tasca, di fronte al magro bottino, hanno cominciato a picchiare selvaggiamente i quattro ragazzi. Alcuni di loro, infatti, sono stati costretti a ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso dell'ospedale San Marco. Sulla vicenda stanno adesso indagando gli agenti della Polizia di Stato. Restiamo a Catania, dove sempre la Polizia di Stato ha invece tratto in arresto un senegalese, il quale aveva commesso un furto in un negozio e poi aveva anche aggredito un vigilante. Tutti i dettagli nel servizio. Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo gravemente indiziato dei reati di rapina impropria e lesioni personali. I due volanti sono intervenute presso una nota attività commerciale di Via Etnea, dove personale della vigilanza aveva segnalato un furto in atto. Sul posto è stato bloccato e identificato un cittadino senegalese, il quale poco prima aveva asportato un profumo del valore commerciale di circa 85 euro e dopo aver superato le barriere antitaccheggio poste all'ingresso del negozio, nel tentativo di allontanarsi lungo Via Etnea, aveva aggredito procurandogli diverse lesioni un vigilante che aveva tentato di bloccarlo. Accertamenti effettuati nell'immediatezza dei fatti hanno permesso di appurare, inoltre che a carico dell'uomo risultava una nota di rintraccio per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma per reati commessi nel 2020 alla quale veniva data esecuzione. Dopo le incombenze di rito, l'uomo è stato condotto presso il carcere Piazza Lanza in attesa dell'udienza di convalida. Restiamo a Catania, ma cambiamo decisamente argomento. Parliamo in questo caso dei controlli effettuati in città dai carabinieri, degli specifici controlli per contrastare il fenomeno della guida di motoveicoli senza il casco. Sono scattate tantissime sanzioni. Vediamo il servizio. Il Comando Provinciale Carabinieri di Catania ha deciso di intensificare i controlli sulle vie e arterie in maggiore percorrenza, avviando di fatto una campagna di prevenzione, sensibilizzazione e contrasto alle condotte di guida indisciplinate e irresponsabili. In tale contesto, il nucleo radiomobile di Catania, attraverso i propri equipaggi sul campo, ha rafforzato i pattugliamenti volti a garantire il rispetto del codice della strada, operando un giro di vite verso il grave fenomeno della guida di moto e scooter senza casco. Nell'ultimo trimestre, le gazzelle e i motociclisti dell'arma hanno quindi multato oltre 85 centauri che non utilizzavano il casco, elevando altrettante sanzioni per un importo complessivo superiore ai 7.000 euro, decurtando più di 500 punti dalle patenti di guida. Assolutamente variegate le reazioni dei trasgressori, c'è chi ha mostrato l'assegnazione comprendendo l'errore e le sue possibili tragiche conseguenze, chi ha provato a dialogare accampando inverosimili scuse e chi si è adirato. Non sono fortunatamente mancati episodi dei quali è emersa la finalità educativa dell'attività contravvenzionale. In particolare, in un'occasione, in Piazza Europa, i militari della sezione motociclisti del nucleo radiomobile hanno fermato senza casco un sedicenne, oltretutto privo anche della patente. Nella circostanza, durante la redazione del verbale, è giunto sul posto il padre dell'adolescente, il quale, dopo averlo energicamente rimproverato per la condotta imprudente, ha ringraziato i carabinieri per averlo sanzionato, consentendogli, in questo modo, di meditare sulle proprie azioni. Purtroppo, il fenomeno della guida di motocicli e ciclomotori senza l'utilizzo del casco è ancora molto diffuso nel capoluogo etneo, causando vittime e feriti di ogni età. L'attività contravvenzionale condotta dai militari è quindi soprattutto volta a richiamare l'attenzione di adulti e giovanissimi sui gravi rischi che questi comportamenti incoscienti possono comportare alla loro incolumità. Far osservare queste norme del codice della strada, infatti, può essere determinante nel trasformare una possibile disgrazia in una vita salvata. Un'altra notizia dal Catanese con i carabinieri di Randazzo che hanno tratto in arresto una 65enne per detenzione illegale di armi e munizioni. Il servizio. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Randazzo hanno arrestato un 65enne del posto già noto alle forze dell'ordine per il reato di detenzione illegale di armi e munizioni. A riguardo i militari dell'arma, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio volto al contrasto dei fenomeni criminali connessi ad armi e droga, all'esito di attività info-investigativa, hanno bloccato in contrada Castro Rao un uomo che si aggirava in aperta campagna, che all'atto del controllo non era in grado di fornire valide spiegazioni circa la sua presenza in quei luoghi. Dato l'atteggiamento sospetto, gli operanti hanno quindi immediatamente proceduto alla perquisizione personale del soggetto e del suo veicolo parcheggiato nelle immediate vicinanze. Nella circostanza, all'interno del mezzo, i carabinieri hanno rinvenuto all'interno di un borsello un revolver calibro .32 sprovvisto di matricola, con tamburo armato e caricato con cinque proiettili del medesimo calibro, arma pronta per fare fuoco. L'attività di ricerca è stata quindi estesa all'abitazione dell'individuo, ubicata in Contrada Sulì, nel comune di Francavilla di Sicilia, dove l'uomo, forse per evitare più gravi conseguenze giudiziarie, ha spontaneamente consegnato ai militari un fucile da caccia del tipo doppietta calibro .16, sprovvisto anch'esso di matricola e approntato per l'immediato utilizzo, che era nascosto in un fienile. Le armi e le munizioni, tutte illegalmente detenute, sono state sottoposte a sequestro. I carabinieri hanno posto l'uomo a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha convalidato l'arresto, disponendo per lui la sottoposizione all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ci spostiamo adesso nella Trapanese, dove alcuni malviventi hanno rubato un mezzo agricolo di proprietà del comune di Mazzara del Vallo per sradicare la cassa di una stazione di rifornimento di carburante, ubicata in contrada Triglia Scaletta a Petrosino. Il mezzo è stato poi ritrovato nelle campagne marsalesi dalla polizia, che è risalita tramite la targa alla proprietà comunale. Pare che il trattore, al momento del furto, fosse privo di batteria e che proprio i malviventi, prima di portarlo via, ve ne abbiano montata una, a quanto pare batteria che era stata rubata poco prima sempre a Petrosino. Sulla vicenda stanno ora indagando gli agenti della polizia di Stato. A Siracusa invece una donna di 40 anni è finita agli arresti domiciliari. Perseguitava l'ex fidanzato dopo la fine della loro relazione, insomma una vera e propria stalker al femminile. Vediamo il servizio. I carabinieri della sezione radiomobile di Siracusa hanno arrestato una donna di 40 anni che non si era rassegnata alla fine della storia d'amore con il suo ex. Un raro caso di stalking, al contrario quello di cui sono stati i protagonisti, una donna del capoluogo è un uomo con cui la stessa ha intrattenuto una relazione sentimentale. Quando l'uomo ha deciso di porre fine alla relazione, la donna non si era assegnata e ha iniziato a perseguitarlo con i comportamenti tipici della stalker. Chiamate e messaggi a qualsiasi ora del giorno e della notte, la quarantenne si presentava senza preavviso sotto l'abitazione della vittima o sul luogo di lavoro per minacciarlo e in alcune circostanze aggredendolo fisicamente. L'autorità giudiziaria, dopo la prima denuncia, aveva emesso nei confronti della donna il divieto di avvicinamento alla parte offesa che è stato ripetutamente violato, tanto che sono stati necessari diversi interventi dei carabinieri. Le violazioni sono state segnalate all'autorità giudiziaria che ha disposto un aggravamento della misura cautelare e pertanto i carabinieri hanno sottoposto la quarantenne agli arresti domiciliari. A Palermo invece la polizia ha tratto in arresto un 29enne marocchino il quale si è reso responsabile del reato di rapina impropria ai danni di un cittadino cinese. Il fatto è avvenuto all'interno di un negozio nei pressi della stazione centrale del capoluogo siciliano, con il malvivente che dopo aver prelevato della merce dagli scaffali dell'esercizio commerciale ha tentato di scappare ovviamente senza pagare. Bloccato dal proprietario del negozio, il 29enne lo ha minacciato e aggredito brandendo un coltello. Gli agenti della polizia, intervenuti prontamente sul posto, hanno immobilizzato il soggetto il quale anche in loro presenza ha continuato a minacciare il cittadino cinese. Il 29enne pertanto, come detto, è stato tratto in arresto per il reato di rapina impropria. Restiamo nella Palermitano con i carabinieri che hanno effettuato un sequestro beni di circa 800 mila euro nei confronti di un esponente di spicco della famiglia mafiosa di Bagheria. Vediamo il servizio. Le attività di indagine finalizzate all'individuazione delle disponibilità economico-imprenditoriali riconducibili ad appartenenti all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, svolte dal nucleo investigativo dei carabinieri di Palermo, hanno portato all'emissione da parte della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo che aveva accolto le richieste della locale procura della Repubblica di un provvedimento di sequestro di beni per un valore complessivo di circa 800 mila euro a carico del bagherese Nicolo Testa. Testa era stato tratto in arresto nel 2015 nell'operazione Panterei con l'accusa di aver retto la famiglia mafiosa di Bagheria in particolare per essere stato un punto di riferimento per l'imposizione delle estorsioni nell'area di influenza, riportando una condanna di primo e secondo grado a 13 anni e 6 mesi di reclusione. Recentemente a giugno di quest'anno Testa è tornato in libertà. Ancora prima l'uomo era emerso quale soggetto interessato personalmente nella complessa gestione nel comprensorio bagherese della latitanza di Bernardo Provenzano, oltre a essere persona di fiducia del noto esponente mafioso Giuseppe Di Fiore. Il provvedimento di sequestro ha riguardato i beni tutti intestati nel comune di Bagheria del valore complessivo di circa 800 mila euro. Si tratta di un'impresa individuale operante nel settore edile con relativo complesso dei beni aziendali, costituito in particolare da ulteriori due imprese operanti nel medesimo settore e numerosi mezzi di trasporto ed industriali. Tra i appezzamenti di terreno il 50% di un alpezzamento di terreno è una corte di 190 metri quadri. La Guardia di Finanza di Ragusa ha invece effettuato un sequestro beni nei confronti di due imprenditori. Beni per oltre 853 mila euro sono stati sequestrati a due imprenditori dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa nell'ambito di un'inchiesta per bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Il provvedimento è stato emesso dal GIP su richiesta della locale procura al centro delle indagini dei finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria la dichiarazione di fallimento di una società del settore di ricommercio di accessori e capi di abbigliamento. Secondo l'accusa dagli accertamenti sarebbe emerso l'occultamento e la distrazione di beni della società fallita grazie a una serie di operazioni fittizie finalizzate al depauperamento del patrimonio aziendale e il successivo reimpiego delle risorse in una nuova società costituita ad hoc nella fase pre-fallimentare dei due imprenditori. Il provvedimento del GIP ha riguardato il blocco preventivo dei conti correnti in uso agli indagati, il sequestro di beni immobili, quote societarie e veicoli tra cui un'autovettura di lusso. È tutto, a più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia.